Salve Swingsettiane e Swingsettiani e benvenuti a una nuova puntata di Di tutto un pop, il programma del venerdì pomeriggio di Zadio Swingset, in replica lunedì alle 17, sempre su Zadio Swingset, in cui in genere parliamo di notizie curiose e in genere ascoltiamo tanta buona musica, ma non è questo il giorno. Ci sono venerdì in cui parliamo di notizie del mondo, ma non è questo il giorno. Ci sono venerdì in cui parliamo di fatti molto molto strani, ma non è questo il giorno. Potrei continuare così a lungo, mi sto sentendo molto Aragorn. Oggi è 24 dicembre, vigilia di Natale, quindi benvenuti in questa puntata di Di tutto un pop, appunto speciale Natale. Comunque la buona musica è presente anche oggi e non può di certo mancare lui, proprio lui, sto parlando proprio di lui. Esatto, iniziamo proprio con la Gentleman's Song e con Michael Bublé. Zadio Swingset Ed era la voce di Ricky Martin qui al Radio Zadio Swingset, sua infatti la event song di questa puntata, perché oggi è proprio il suo compleanno, quindi tanti auguri Ricky Martin, si è nato nel 1971, siamo nel 2021, 81, 91, 2001, 2011, 50 anni. Complimenti, tanti auguri di Ricky Martin, 50 anni postati benissimo. Ma continuiamo con la speciale di Natale di Di tutto un pop. Il Natale, quanto ci piace il Natale e quanto mangiamo durante le festività. Abbiamo iniziato dall'8 dicembre, se non prima, e non finisce di certo oggi. Anzi, il cibo e soprattutto la nostra circonferenza non possono che aumentare. Ma il Natale è o non è il periodo più bello dell'anno? L'albero, le decorazioni, le luci per chi fa il presepe, ma soprattutto ci sono i regali. E lo ammetto, alla mia età ha detto da sei anni. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è per me sotto l'albero. Roba che quest'anno farò a gara con mio figlio di quattro anni e aprirò perfino i suoi di regali. Mi sa che lo somatizzerò sul Natale, forse è meglio che mi limiti ad aprire i miei regali. Mi piace vedere sotto l'albero i pacchi piccoli, i pacchi grandi, i pacchi medi, i pacchi colorati. Ed è in questi momenti che mi piacerebbe tornare bambina. Perché da bambini era tutto molto più magico, tutto molto più speciale. Ricordate i vostri Natali da bambini? Vi ricordavate quando si andava vicino l'albero a toccare i pacchi per indovinare cosa ci fosse dentro? Ma anche per vedere quali erano i pacchi molli e quelli duri. Perché i pacchi molli erano quasi sicuramente vestiti e quando si è bambino nessuno vuole ricevere vestiti a Natale. Invece i pacchi più resistenti potevano essere dei giocattoli. Su certi aspetti, forse è una sensazione tutta mia fatemi sapere, quasi ci importava più la scatola che il regalo in sé. L'emozione di scartare il regalo, togliere la carta e pian piano aprirlo. Era, davvero non saprei come definirlo, erano un'emozione, una curiosità talmente forti che solo Galileo, quando ha salvato per la prima volta i quattro satelliti principali di Giove, solo lui, Galileo, solo tu puoi capirci. Per ogni tanto c'era la fregatura. Scartavi un regalo pensando che fosse un giocattolo perché la confezione era dura, e invece trovavi vestiti truffatori. Mamma mia, come insegnare ai bambini come bestemmiare da subito perché quanto devi essere sadico per illudere un bambino o una bambina pensando di farli trovare chissà quale bel regalo e poi privarli dei sorrisi. Sì, esatto, voi che fate così, siete il male. Non potete togliere gioia e sorrisi ai bambini. Quindi un appello, se comprate dei vestiti ai bambini, non metteteli in scatola, ma fate loro capire che non devono aspettarsi sicuramente dei giocattoli. Andiamo con la prossima canzone, Rock Christmas Song. Ed eccoci qua con di tutto un pop. Vorrei farvi notare che prima per la Rock Song avete ascoltato Last Christmas, però non la versione originale degli UAM, ma una cover dei Good Charlotte. Quindi se state ancora partecipando al UAMageddon e non avete ancora perso, uno, come avete fatto? Io ho perso quasi subito per colpa di mia madre intorno all'8 dicembre. Due, non sarò io la causa della vostra eventuale sconfitta. Quindi l'UAMAL non farebbe per voi, meno non per colpa mia. E se doveste vincere comunque, se doveste arrivare fino alla fine di questa sfida senza aver ascoltato Last Christmas degli UAM, pensate a me e inviatemi un grazie e contatti di Radio Swing Set. È da settimane che ormai, anzi mesi, si può dire quasi un mese, che ormai si ascoltano dappertutto canzoni natalizie, in radio e tv, negozi e supermercati, passeggiando, passeggiando, perché magari la sentite da qualche negozio o qualcuno che la canticchia, pubblicità, trailer di film, vicini di casa, soprattutto le canzoni quelle più famose e più amate. E ovviamente tra i grandi classici c'è appunto Last Christmas degli UAM, a cui appunto, come ho detto poco fa, è stata dedicata una bizzarra sfida, il WAMageddon. Per chi non sapesse cos'è il WAMageddon, quei pochi che ancora non sanno che cos'è, è un gioco nato su internet nel 2010 da un gruppo di danesi, ma è recentemente diventato super famoso, super condiviso da tutti, grazie ai vari social e a Whatsapp, ma soprattutto nel 2018 grazie a un comico britannico, Romesh Zanga Netan, che pubblicò un tweet ai suoi 400.000 follower, proponendo il giocino. Lo scopo è riuscire a non ascoltare Last Christmas dal primo dicembre alla mezzanotte, fino alla mezzanotte del 24 dicembre. Quindi oggi è l'ultimo giorno e non bisogna ascoltarla neppure per sbaglio, neppure una singola nota. Se anche inconsciamente vi state rendendo conto di ascoltare proprio quella canzone, siete fuori. Però si perde ascoltando solo la versione originale. Se ascoltate dei mix o cover come ho fatto prima, siete ancora in gara. Se qualche amico ve la canticchia sperando di farvi perdere, siete quindi salvi, a meno che non riesca di proposito a farvi ascoltare proprio la canzone originale. In quel caso non solo avete perso la fida, ma avrete anche un amico in meno. Comunque sul sito ufficiale, perché sì, c'è un sito ufficiale, viene chiesto di non inviare la canzone a tradimento a parenti e amici, perché si tratta di un gioco di sopravvivenza e non di eliminazione, ma è solo un consiglio, non una regola. Quindi se la sentite a tradimento, siete comunque fuori. Continuiamo a parlare di regali e vorrei fare un'altra piccola considerazione con voi, anzi vi faccio proprio una domanda. Voi come reagite quando ricevete un regalo di Natale? C'è chi reagisce in un orgasmo di felicità, chi reagisce in maniera esagerata, tanto da farsi venire la bava alla bocca, ed esagerato anche quando riceve qualcosa che non voleva. E poi ci sono anche gli impassibili con i regali, quali che qualsiasi cosa dai, anche, che ne so, un bastoncino di un lecca-lecca già mangiato, o uno zainetto con la cerniera rotta e l'etichetta allegato a cioè, e vi assicuro che quest'ultimo l'ho ricevuto io da bambina, dicevo, gli impassibili non cambiano mai espressione. Avete presente Natalia interpretata da Marina Massironi insieme ad Aldo Giovanni e Giacomo? Perfetto, è lì l'esempio giusto, è lì l'impassibile dei regali. E poi ci sono quelli come me, noi non ci aspettiamo grossi regali e siamo felici per qualsiasi cosa riceviamo, forse anche una semplice stecca di cioccolato, possibilmente fondente, però va bene qualsiasi cosa. Ci rende davvero tutto molto felici, è il pensiero che conta, è il caso di dirlo, ma neppure quelli come me sono salvi, perché ci ritroviamo a recitare anche noi, perché chi ci ha fatto il regalo si aspetta una reazione, vuol sapere cosa ne pensiamo, e quindi cosa succede? Ci ritroviamo a recitare il finto contento, anche se siamo effettivamente contenti, perché non sappiamo come esprimerlo, e temiamo che chi ci abbia fatto il regalo, tema che non ci piaccia, quando invece ci piace. Io ho sempre questo timore, ogni anno ho sempre questo problema, pure i compleanni, io sono contentissima di ricevere un regalo, davvero, qualsiasi regalo, ma ho davvero difficoltà a mostrare la mia reale felicità, quindi mostro una contettezza, alcune volte diciamo eccessiva, un po' finta, ma sono comunque contenta, o peggio, altre volte pensano dalla mia reazione, che il regalo al contrario non mi sia piaciuto, o che non sia contenta, invece dentro di me sono felicissima, non so se le persone si sono rese conto di questo, adesso lo sapete. Andiamo avanti con la musica, ci aspetta l'alternative song, per voi ho scelto una delle mie canzoni natalizie preferite, Christmas Lights, The Coldplay, non lo so, questo brano ogni volta che l'ascolto mi dà di serata in famiglia, magari con il caminetto acceso, con le persone a cui voglio particolarmente bene. Ma come ho potuto non parlare della protagonista di questa trasmissione, la musica? Probabilmente non c'è periodo dell'anno che abbia così tante canzoni da invidiare, c'è chi le ama, sicuramente ci sarà anche qualcuno che detesta sentire brani natalizi, ci sta, è plausibile, di sicuro, la cosa sicura è però che ti enziano in testa già dai primi di dicembre, e ci si ritrova a canticchiarle per tutta la festività, sia che ci piacciono, sia che non ci piacciono. E infatti c'è, per quanto penso che ci sia anche la colonna sonora del Natale, la propria colonna sonora del Natale, oltre a esserci la colonna sonora della vita, la colonna sonora di una storia d'amore, la colonna sonora della propria morte, perché qualcuno magari vuole scegliere i brani che vorrebbe far sentire al funerale, c'è la colonna sonora di qualsiasi cosa, quindi esiste anche la colonna sonora del Natale, le canzoni che più ci piacciono e che portano emozioni positive e bei ricordi, soprattutto, secondo me, quelle legate all'infanzia. Pensateci, le prime canzoni che vi vengono subito in mente sono quelle che avete ascoltato di più da quando eravate bambini, e se ci pensate bene, le canzoni, vado un attimo fuori dal Natale, se ci pensate bene, le canzoni che maggiormente preferite in assoluto sono quelle che avete ascoltato da ragazzi, magari proprio da adolescenti, tanto che ogni generazione mal sopporta le canzoni che poi piacciono ai futuri giovani e dicono sempre le canzoni dei miei tempi, quelle sì che erano belle, così è stato, così è adesso, così sarà anche in futuro, sicuro, questa è una frase che lo dice chiunque, ogni generazione l'avrà sicuramente detta. Tornando al Natale, alcuni brani li abbiamo già ascoltati, ma è impossibile raccogliere in un'ora tutte, ma proprio tutte, le canzoni di Natale, sia classiche, sia quelle moderne, ma non può mancare, e l'ho inserita nella number one song, perché proprio l'anno scorso era prima in classifica, qui in Italia, in quanto la cantante in questione ha riproposto un CD dei suoi brani natalizi, e quindi è andato subito, subito, prima in classifica, ed è una di quelle canzoni che ogni volta mi fa scatenare e non mi stancherei mai di ascoltare, ovviamente sto parlando di Mariah Carey, e All I Want For Christmas Is You, e in pizza a tutti, aggiungerei, chissà se faranno mai, dopo il Wamageddon, faranno anche un Kazeghetton, perderei già dal primo giorno. Radio Swingset E Sbam, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi, so che non mi avete potuto vedere, non mi vedete mai, perché non mi filmo durante la puntata, ma vi assicuro che ho il cappello di Babbo Natale in testa, ho ho ho, sì certo, facile dire ho ho ho, a uno che lavora un giorno all'anno, ma secondo voi Babbo Natale ha diritto alla pensione, ma soprattutto cosa fa Babbo Natale durante tutto il resto dell'anno? Fatemi sapere cosa ne pensate con le risposte più strane possibili seguendoci su tutti i social come Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram o inviandoci messaggi e mail ormai, credo che sappiate tutto a memoria, io non lo so tutto a memoria, lo ammetto, ogni volta devo leggere soprattutto il numero di telefono, comunque potete trovare tutto su www.radioswingset.com nella sezione contatti. Prima di salutarci comunque un veloce avviso, venerdì prossimo non ci sarà di tutto un pop, ci riascoltiamo da venerdì 7 gennaio alle 17. Cari Swingsetiani Swingsetiani, la puntata di oggi finisce qui, vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma e buone feste, ciao! a